Arriva l'autunno, arriverà l'inverno, piove qualche giorno e ci ritroviamo il territorio a rischio di inondazione. In particolare quale territorio? Quello di pianura dove storicamente già da secoli i corsi d'acqua sono stati arginati, sono stati arginati per recuperare spazio per l'agricoltura, per gli insediamenti, per le nostre attività economiche in una logica che era ragionevole allora ma che oggi ci sta portando un conto molto salato. Questi grandi fiumi arginati hanno la caratteristica purtroppo di non avere spazio dove accogliere le acque di pioggia. I fiumi hanno bisogno di spazio, hanno bisogno di spazio per accogliere le piene ed evitare che vadano ad inondare paesi e campagne. Lo spazio se lo prendono. Se lo prendono, lo stiamo vedendo in tutta Italia, non è questione di colore politico o di zone. È abbastanza regolare che nei tratti arginati di corsi d'acqua si abbiano delle rotture. Le rotture non sono altro che in manifestarsi della volontà del fiume che deve cercare spazio per mettere l'acqua che non riesce a tenere in un alveo che è stato così ristretto. Quindi adesso è un po' il momento delle scelte. Lasciamo ai fiumi la decisione di dove rompere e prendere spazio o pianifichiamo in modo preciso dove restituire in modo capillare spazio al fiume? Aggiungo, abbiamo l'occasione del recovery fund, cioè abbiamo la possibilità di mettere soldi per un lavoro che più green di così non si può, perché questo sarebbe lavoro green, mettere soldi che dovrebbero essere destinati nei tratti arginati della nostra regione ma di tutta Italia per smontare dove è possibile i rilevati arginali e ricostruirli a retrati. Nei tratti di pianura non ci possiamo permettere di non avere fiumi arginati ma ci dovremmo permettere, dovremmo volere, dei fiumi dove gli argini non sono a ridosso dell'alveo, sono lontani. Sono lontani dall'alveo in modo che all'interno ci siano aree golenali che si allaggano in caso di piena, evitando che si allaghi il resto del territorio. Questo vuol dire, ahimè, prendere spazio all'agricoltura, ma prendere spazio all'agricoltura si può fare in modo virtuoso dicendo al mondo agricolo, grazie, ci aiutate a salvare parte del territorio e vi ricompensiamo abbondantemente e mettiamo anzi insieme sul tavolo una strategia comune in cui insieme decidiamo dove, come, quanto vale lo spazio che ci date e facciamo anche un applauso, cioè deve essere un lavoro virtuoso fatto da associazioni, mondo politico e mondo tecnico. Ci sono tutte le condizioni per farlo, se no lo faranno i fiumi.